Su iniziativa di salto abbiamo pensato ad un esperimento che non sappiamo come funzionerà ma potrebbe essere interessante e sicuramente innovativo. Spiegare i contenuti della riforma costituzionale su cui presto si terrà un referendum confermativo attraverso le domande dei lettori. Questo può essere un modo per cercare di dare delle risposte tecniche alle curiosità e per fare sì che si vada a votare con la dovuta informazione sui contenuti della riforma che è oggettivamente abbastanza complicata. L'obiettivo quindi è proprio spiegare e cercare di dare delle risposte alle legittime curiosità di chi legge salto e di chi ascolta questi video. Evidentemente non ci saranno indicazioni di voto, si cercherà semplicemente di dire cosa funziona, che cosa no, perché e anche quando si tratta di interpretazioni personali di spiegare che sono delle interpretazioni. Come funziona questa iniziativa? Si richiede appunto di inviare le domande per email all'indirizzo sotto indicato e l'unica condizione per le domande perché ottengano una risposta è che ci sia una rilevanza tematica, che si tratti in qualche modo di questioni legate direttamente o indirettamente alla riforma della Costituzione. Ogni venerdì sarà pubblicato un video in cui si daranno le risposte a tutte o ad alcune delle domande e questa iniziativa continuerà per il tempo che sarà necessario, dipenderà da quanto interesse c'è da parte dei lettori. Diciamo una sorta di, possiamo dire così, tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla riforma costituzionale e non avete mai in지irato. In senso di salto, ho avuto di spiegare i sui mondi direi Sboli, in un neudeutsche plainse come si dice il nome 2000. In ogni dels pezzi, le risposte dei domande e le risposte in cui si sono svvicini risp کرendo e ci sono delle risposte e le risposte risposte in cui ci sono delle risposte negatività e le risposte e comunque anche un poco più piacere e interessanti sia magari loro in cui si parla di provano più difficile. calmamente questa risposte tutto il momento iniziativa è stato molto divertente. Grazie e bis Freitag, con la prima risposta.